La capitale della cultura non si ferma, sguardo già rivolto alla candidatura europea 2033. Ex manicomio del San Benedetto, sempre più pericolante, transennato l'edificio e chiesto un nuovo sopralluogo. Accelerata sul nuovo nido della torraccia, segnati i lavori per realizzare l'asilo da 90 posti. Un ponte di solidarietà fra Pesaro e l'Etiopia nel segno di Abba Marcello. Cala il sipario sul 77esimo festival d'arte drammatica GAD. Buonasera, ben ritrovati al nostro telegiornale Rossini News. In apertura parliamo del legame sempre più stretto fra cultura e turismo a Pesaro, una connessione ribadita anche sabato in occasione degli stati generali del turismo che hanno fornito i numeri di crescita di questi dieci mesi trascorsi da Capitale della Cultura e l'intenzione di continuare a programmare con sguardo rivolto alla Capitale europea del 2033. Partiamo così. È un appuntamento fisso e istituzionalizzato ormai da anni, quello con gli stati generali del turismo. Undicesima edizione, ma è un'edizione molto particolare, quella che si tiene quest'anno perché il 2024 è l'anno di Pesaro Capitale della Cultura e questo consueto momento di approfondimento arriva dopo quasi dieci mesi di Pesaro Capitale che hanno detto tanto. Oggi sono stati snocciolati i numeri e l'incidenza di questi sul tessuto cittadino e territoriale per quanto riguarda presenze e effetto sulle strutture ricettive, ma si è parlato di tanto altro anche con panel dedicati alla prospettiva futura sia per il 2025 ma anche per quanto riguarda le riflessioni in vista della candidatura a Capitale europea 2033. I dati ci dicono un più 30% di tassa di soggiorno che vuol dire un più 30% di persone che hanno deciso di venire a visitare il nostro territorio. Anche il numero delle presenze a livello regionale dicono che la città di Pesaro, il nostro territorio, è quello più attrattivo a livello regionale e quindi noi siamo sicuramente la locomotiva di tutto il territorio regionale. Investiamo annualmente circa 5 milioni e mezzo di euro per la cultura e il turismo, è un investimento veramente molto alto. Parliamo di più di 1.020 eventi in questi primi nove mesi e un movimento complessivo di oltre 200 mila spettatori in più e visitatori in più rispetto all'anno precedente. Quindi si è creato un circuito virtuoso che sarebbe utile, necessario e importante portare come eredità verso il futuro. I dati di Confcommercio di qualche mese fa dicono che siamo arrivati al 15% del prodotto interno lordo prodotto dal turismo e abbiamo tutte le potenzialità per arrivare al 20%. Quando siamo partiti eravamo appena al 7-8% e quindi è la dimostrazione che se si fanno le cose coherentemente i risultati arrivano e potranno arrivare ulteriormente risultati positivi se saremo costanti con questa strategia e se questa strategia riuscirà ad allargarci tutto il territorio regionale. Ci aspettano altri tre mesi, comunque importanti dal punto di vista turistico e dell'accoglienza e soprattutto crediamo che siano delle basi importanti per lavorare su un 2025 e oltre perché poi abbiamo sempre detto che la programmazione, il tempo di rilascio e anche l'effetto che volevamo misurare della capitale non erano solamente gli arrivi nel 2024 ma un effetto lungo sia di attività ma anche di conoscenza della città e di promozione che va misurato quantomeno nei tre anni. Su questo siamo molto ottimisti e molto ci fanno essere anche il risultato, il dato anche politico e se vogliamo dei 50 comuni che stanno condividendo la capitale italiana della cultura con Pesaro penso che sia uno dei primi elementi da porre anche a livello di dibattito strategico ad esempio rispetto alla regione, quindi come essere più vicini al turismo della nostra provincia sostenendo lo spirito del 50 per 50 che tutti i comuni si chiedono di mantenere anche per l'anno prossimo e che potrà essere una base importante se non fondamentale per la candidatura a capitale europea 2033 che sembra così lontana ma che in realtà nei giorni scorsi è stato assegnato il 2029 che spetterà la Polonia e quindi tra quattro anni non si inizierà il dibattito ma si assegnerà la capitale europea 2033. Insieme ad Urbino quella deve essere la prospettiva di una candidatura di un territorio intero per l'obiettivo del 2033 e quindi non bisogna alla fine dell'anno smontare, alla fine dell'anno bisogna rimontare una strategia per tutta la provincia in vista del 2033 e la capitale italiana della cultura è un ottimo risultato ma la capitale europea davvero è una cosa straordinaria se pensiamo a quello che è successo a Matera anche in termini di finanziamenti perché stiamo parlando di centinaia di milioni di finanziamenti che arriverebbero dall'Europa. E in occasione degli stati generali del turismo il sindaco Biancani ha anche ribadito i luoghi del patrimonio storico, culturale e cittadino che verranno rilanciati nel 2025 da un cospicuo piano di investimenti. Sentiamolo. Un 2024 trampolino di lancio verso investimenti permanenti per la crescita del patrimonio storico, culturale e turistico della città. E' un ricco ventaglio di cantieri, la maggior parte dei quali finanziati da fondi PNRR, quello rimarcato dal sindaco Andrea Biancani durante gli stati generali del turismo tenutisi presso della Chiara World Spaces. Stiamo investendo circa 44 milioni di euro, lo ripeto 44 milioni di euro per riqualificare quello che è il patrimonio storico e culturale della nostra città. Mi riferisco a Palazzo Ricci, i musei civici, l'ex San Domenico dove c'era il mercato delle erbe, mi riferisco al museo e alla biblioteca livriana, mi riferisco agli orti giuli. Quindi stiamo cercando di far sì che quando verranno anche i prossimi anni i turisti troveranno addirittura un patrimonio storico e culturale ancora più forte. Dall'altra parte puntiamo molto anche al recupero di Rocco Costanza, cioè la possibilità di utilizzare sia la parte interna per renderlo visibile, ma anche di prendere proprio in concessione il vallato, dove potremo anche lì organizzare tante iniziative. Abbiamo fatto incontri con l'Arcidiocesi per cercare di valorizzare i mosaici, al novembre uscirà il mando per progettare il nuovo Viale Trieste, quindi diciamo che al di là di tante parole che a volte possono sembrare fumo negli occhi, in realtà questo anno è stato un anno concreto, ma lo sarà sicuramente anche i prossimi anni. Cedimento ieri di parte del tetto dell'ex complesso psichiatrico San Benedetto. Dopo un sopralluogo da parte dei vigili del fuoco e della polizia locale, sono stati transennati 30 metri di via Mammolabella, riconducibili alla porzione dello stabile di proprietà dell'azienda sanitaria territoriale. Il Comune di Pesaro rinnova la stessa AST e la Regione ad un nuovo sopralluogo per constatare la gravità delle condizioni dell'edificio e auspicare un intervento nella propria area di competenza. Il Comune, dal canto proprio, ha già annunciato che entro marzo inizierà i lavori nella propria porzione, compresa fra Via Belvedere e Corso 11 settembre, dove si realizzeranno 38 appartamenti di edilizia residenziale pubblica. Comune di Pesaro che intanto accelera per la costruzione del nuovo asilo nido alla Torraccia. Oggi Riccardo Pozzi ha assegnato il cantiere da 2 milioni e 160 mila euro di fondi PNRR alla ditta pesarese SRC Italia. Ora il cantiere andrà avviato entro il 31 dicembre per realizzare un asilo da 90 posti che aumenterà la disponibilità in città per la fascia 0-3 anni. I finanziamenti PNRR impongono che l'opera sia completata entro il 30 giugno 2026. La struttura si troverà nell'area compresa fra Via degli Abeti, Via dei Frassini e Via dei Tigli. Come mostra il rendering che state vedendo, l'asilo avrà un'innovativa forma di casette a schiera che seguiranno la curvatura della strada, ricavando 650 metri quadrati di servizi per bambini e 160 per docenti e personale. Ed ora cambiamo argomento perché è stato un weekend di massicci controlli su strada da parte della Polizia Stradale in prossimità dei principali luoghi della Movida di Pesaro e Urbino. Complessivamente le pattuglie hanno sottoposto a controllo 167 persone contestando 103 infrazioni. In totale sono state ritirate 10 patenti fra test alcolemici e positività a test antidroga. Sono stati decurtati 294 punti e denunciate 4 persone all'autorità giudiziaria per possesso di stupefacenti. Un'unione Pian del Bruscolo sempre più svuotata di funzioni, servizi e personale è il grido d'allarme lanciato dalle sigle sindacali della provincia di Pesaro e Urbino. Una cattedrale nel deserto svuotata di funzioni, di personale e snaturata nei servizi. Sigle sindacali unite all'unisono nella ricerca di risposte dalla politica sul futuro dell'unione Pian del Bruscolo. Un'unione, sottolineano i sindacati, che ha perso progressivamente la sua prospettiva originaria con cui fu assemblata 21 anni Orsono. Un'unione che aveva 25 dipendenti, che ora ne ha 11, 9 dei quali hanno fatto richiesta di trasferimento. Un'unione dunque sempre meno unita, il cui ultimo sfilacciamento è arrivato dal Consiglio Comunale di Pesaro di settembre che ha votato l'uscita del capoluogo per quanto riguarda i servizi di polizia municipale e informatici. Doveva diventare e poteva essere la più grande e importante unione delle marche, nel tempo è diventata una roba un po' diversa, perché ci sono stati fuggi e rifuggi da tutte le parti e sono rimasti senza personale, senza servizi, senza un'idea di progetto, quindi non so cosa possono rispondere alle esigenze della gente. Io quello che non posso accettare rispetto a una legittima decisione del Comune di Pesaro di riprendersi i servizi che ci sta, non me la vendete però che sia come un rilancio dell'Unione Pianto e Buscolo, perché così non è. Per rilanciare un'azienda o un ente si rafforzano i servizi, si mette il personale e si risponde alle esigenze veramente dei cittadini. Tra il rientro delle funzioni di Polizia Locale e dei sistemi informativi dall'Unione al Comune di Pesaro, tra le mancate assunzioni che sono state fatte all'Unione Pianto e il Bruscolo e le mobilità che il personale ha fatto dall'Unione, quindi lo svuotamento delle funzioni principalmente amministrative del personale, e questo ha creato l'incertezza nella Polizia Locale e anche nel poco personale che è rimasto, ad oggi un unico dipendente a tempo indeterminato e pieno, tra gli amministrativi. L'Unione di fatto è stata creata per fornire servizi alla cittadinanza, per riunire la forza di alcuni comuni che magari all'epoca, era lontano 2003, non avevano la forza per gestire di fatto tutti i servizi. A questo punto si chiede all'amministrazione di capire quale sarà la visione per il futuro e in tutto questo non dobbiamo scordarci quello che è il ruolo dei dipendenti che restano in capo all'Unione Pianto e il Bruscolo. Quindi ecco la domanda che si rivolge in questo momento è quella di dare una prospettiva sia all'Unione in quanto tale che a quello che sono tutti i dipendenti che restano in capo all'Unione Pianto e il Bruscolo. Come l'arte e la bellezza influiscono sul benessere e sulla salute delle persone? È stato questo il focus d'approfondimento del consueto convegno annuale organizzato ieri da 50 e più Pesaro Urbino, in collaborazione con Terziario Donna e Stella Scarpa nella sala convegni di Confcommercio Marche Nord. Una tematica che è stata sviluppata dai docenti dell'Università Tor Vergata di Roma, Angela Savino e Ottavio Di Clemente, dall'arte terapeuta Anna Maria Taroni, dall'igienista dentale Silvia Morelli e dalla Beauty Personal Trainer Stella Scarpa e che potrete approfondire nello speciale realizzato da Rossini TV che andrà in onda venerdì 1 novembre alle ore 21. Continua l'opera del missionario pesarese Marcello Signoretti che da oltre 20 anni aiuta le popolazioni dell'Etiopia dove ha fondato il villaggio dei ragazzi sorridenti. Un'opera missionaria sempre più solida grazie al ponte di solidarietà costruito con le scuole superiori pesaresi. Vediamo. Si è tenuto questa mattina presso Palazzo Antaldi l'incontro per presentare il progetto umanitario di solidarietà internazionale tra il centro di accoglienza per bambini e ragazzi di strada di Soddo in Etiopia e le scuole superiori di Pesaro sulla scia delle opere missionarie di Abba Marcello. Abbiamo avuto l'opportunità e la fortuna di avere con noi circa 200 studenti di tutte le scuole superiori di Pesaro per illustrare un progetto di solidarietà internazionale nato nel 2009. Questo progetto è nato al liceo scientifico Marconi di Pesaro dove io insegnavo perché nello stesso momento Abba Marcello, che è mio fratello e che vive ormai da 28 anni in Africa, stava costruendo una cosa importantissima, un centro di accoglienza per bambini di strada per offrire a questi bambini che non hanno un futuro vivendo nella strada un'opportunità e un obiettivo di costruire una vita di qualità e dignitosa. È nato come progetto di solidarietà perché ho coinvolto gli studenti, tutti i docenti, il personale anche non docente e tutti insieme abbiamo raccolto dei fondi per dare un piccolo contributo per la costruzione di questo centro che costava circa un milione di euro. Cambio in facendo abbiamo scoperto che questo progetto di solidarietà era un importantissimo progetto educativo perché i ragazzi che hanno avuto l'opportunità di visitare il centro e sono oltre 500, in sostanza hanno rimesso in gioco, in discussione, hanno riscoperto valori che loro dentro hanno e qui fanno fatica ad emergere. L'associazione è nata tramite un gruppo di volontari che sono stati a trovare proprio nel centro dei ragazzi di strada di Abba Marcello, stati a trovarlo, si sono innamorati del suo progetto e hanno iniziato a divulgare qui nel nostro territorio questa iniziativa. Negli anni siamo cresciuti e ad oggi siamo circa una quarantina di soci, tutti volontari, che ci diamo da fare per cercare di sostenere sia da un punto di vista finanziario le opere ma anche di promuovere valori di solidarietà, condivisioni e attività di volontariato che fanno riferimento ad Abba Marcello. Esperienze e valori, quelle che il viaggio in Etiopia trasmette, che vengono raccontati anche da alcuni ragazzi presenti all'incontro. Un viaggio che ti porta a stare con te, a uscire dalle tue paure, dalle tue fragilità per incontrare l'altro e perdonarti all'altro. Quindi la cosa bella è che tu vai in queste strade che sono praticamente prive di tutto e trovi tutto una volta che torni. Nel senso che l'amore che hanno negli occhi coi bambini, la bellezza del dono gratuito che hanno quelle famiglie, ti resta e ti permette in qualche modo poi di tornare a casa e di portare quell'amore gratuito anche qua, nella tua città. Perché c'è un'Africa anche qua, a Pesaro, che è fatta di povertà interiore, che è fatta di povertà di valori, che è fatta di stanchezza, tristezza, quindi ci deve essere un ritorno al dono e alla bellezza. E l'Etiopia è un viaggio che ti regala questa opportunità di vedere oltre, di andare oltre. È stata una lezione sul modo di vivere, su come si intende la felicità. Sai, loro non hanno niente eppure riescono a essere felici. Noi che abbiamo tutti questa cosa non ce l'abbiamo. Ogni volta che mi viene data l'occasione, invito sempre ai giovani a fare questa esperienza. Perché io l'ho fatta che avevo 17 anni ed è stata molto formativa e credo possa esserlo per tutti. Quindi se si ha la possibilità, intraprendete questa esperienza. Grazie mille. Nello speciale che abbiamo realizzato e che andrà in onda venerdì 1 novembre alle 21.20. E si è conclusa ieri la 77esima edizione del Festival GAD d'Arte Drammatica. Ieri infatti c'è stata la consueta cerimonia di premiazione che vi facciamo vedere in questo prossimo servizio. La tradizionale cerimonia di premiazione nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini ha calato il sipario sulla 77esima edizione del GAD. Festival nazionale d'Arte Drammatica che nell'anno di Capitale della Cultura condedica il compianto Glauco Mauri, conferma il suo alto standard di qualità delle compagnie teatrali in concorso. A vincere il festival è stata la rappresentazione di Uomini e Topi di Steinbeck della compagnia Giardini dell'Arte di Firenze, seguita dal Teatro Comico della compagnia La Graticcio di Verona e da Riccardo Terzo della compagnia Artemisia di Bari. Uomini e Topi riceve il premio più alto dalla giuria del concorso, ma viene votato miglior spettacolo anche dalla giuria studenti e da quella del pubblico. È uno dei premi più ambiti a livello nazionale, forse è il più ambito. Noi non l'avevamo mai vinto, questo è un onore immenso, specialmente adesso anche che è l'anno della Pesaro della Capitale della Cultura, quindi dà un valore aggiunto ancora maggiore. Quindi se essere riusciti ad raccontare una tematica e aver colto il cuore del pubblico penso sia il premio anche questo qui più forte e maggiore. 13 i riconoscimenti assegnati, far cui anche il premio Claudio Sora offerto da Rossini TV per il miglior trailer vinto dallo spettacolo stasera Ovulo del gruppo attività teatrali Peppino Mancini di Fasano. Mi illusinga tantissimo vedere quante persone sono state presenti a questa cerimonia, non solo le persone coinvolte, le compagnie che ricordiamo tutte ritornano a Pesaro per la premiazione, ma c'erano tanti rappresentanti istituzionali, anche tante persone del pubblico che ci ha seguito abbonandosi, ha seguito tutto il festival. Quindi è stata veramente una festa in cui tutta la famiglia del Gad, in tutte le sue componenti, quindi da chi recita, chi organizza, chi partecipa come pubblico, si sono ritrovati assieme per celebrare questo momento di grandissima emozione in cui si sono rimesse in fila i valori importanti, che sono quelli della passione comune, della condivisione e direi anche della cultura. L'asticello ovviamente si è alzata, si è alzata per tanti motivi, non soltanto per Pesaro, capitale della cultura, ma anche perché c'è veramente negli interpreti e nelle compagnie la voglia e il desiderio di partecipare al festival di Pesaro e sanno tutti che partecipare al festival di Pesaro è un onore e quindi è sempre più importante aumentare la qualità perché ci sono tante compagnie preparate che si presentano tutti gli anni e hanno bisogno di una vetrina importante come questa di Pesaro per rilanciarsi o per confermare le proprie posizioni sul territorio nell'ambito di quello che è il teatro amatoriale italiano. E' andato in scena al Festival del Cinema di Roma il docufilm dedicato alla storia del Carnevale di Fano, si tratta di Cartapesta, Carnevale di Fano. Cortometraggio prodotto e realizzato da Andrea Lodovichetti, Nicola Nicoletti e Luca Caprara e proiettato all'interno degli spazi di Alice nella città, sezione parallela della rassegna romana dedicata alle nuove generazioni. Nei prossimi giorni il film sarà proiettato anche nelle sale cinematografiche di Fano. Si è chiusa invece ieri la 61esima mostra del tartufo bianco di Sant'Angelo Invado dopo un'edizione che ha portato in città migliaia di visitatori e buongustai. A chiudere la Kermesse è stata la consegna del tartufo d'oro a Sofia Raffaeli, olimpionica di ginnastica ritmica, distintasi nell'ultima Olimpiade di Parigi. E a Giovanni Battista Girolomoni, figlio di Gino, che con l'azienda di famiglia continua a essere in prima linea nella diffusione del biologico in Italia. E come tutti i lunedì chiudiamo questa edizione parlando di sport, un weekend estremamente positivo per la Vispesaro, per la Megabox Vallefoglia e per il Pesaro Rugby. E invece una crisi sempre più nera, quella in cui è piombata la VL. La VL resta immersa mani e piedi nel suo stato di crisi sempre più mortificante. A Milano l'Urania si impone 77-60 al cospetto di Pesaresi, che reggono un tempo per poi sfaldarsi. 20 minuti di lotta con i primi due quarti chiusi sul 36-33 per i padroni di casa, poi nel terzo quarto l'Urania infila un break e la VL non ha la forza né la tenuta mentale per riprendersi. L'Urania nel terzo quarto va sopra di 12 prima di accomodarsi alla fine dell'ultimo parziale con un più 17 finale. Per la VL 17 punti di Maretto e 13 di Amad. Nella pallavolo esaltante terza vittoria consecutiva per la Megabox Vallefoglia, che dopo Perugia e Busto Arsizio espugna anche la Tana della matricola Talmasson, issandosi a nove punti in classifica alle spalle delle sole Conegliano e Milano. Sembra tutto in discesa nel primo set per le ragazze di pistola, che invece subiscono la rimonta delle padrone di casa, che vanno sull'1-0. Le Tigri però non si deprimono e si aggiudicano con disinvoltura e successivi tre set 25-13, 25-14, 25-19. Esulta anche la Fiorini-Pesaro-Rugby che a Muraglia trova la prima vittoria della stagione, giocando un bel rugby vincendo 38-12 per la conquista di cinque punti in classifica. Nel primo tempo una meta di Venturini e due di Fenner portano i Kiwi sul 19-5, nel secondo tempo altre tre mete di Antonelli, Fenner e Dall'Acqua mettono il fiocco al primo successo. Nel calcio torna in campo la Vispesero domani sera nella trasferta infrasettimanale di Gubbio. In Umbria i Biancorossi arrivano sospinti da un debordante 4-0 sul Carpi che vale il settimo posto in classifica. La squadra di Stellone riemerge da quattro pareggi consecutivi rifilando un poker agli Emiliani. Mancavano i gol degli attaccanti, arrivano due doppiette per Nicastro e per il 19enne Alvino Coro, man of the match che trova i primi gol in carriera da professionista. Nel calcio a 5, l'Ital Service cade alla prima casalinga in uno schizofrenico 5-4 con la L84 Torino. I piemontesi vanno sul 3-0, poi pesero a corsa con Barichello, ma Torino va sull'1-5. L'Ital Service ha però la forza di segnare tre gol in due minuti con una doppietta di Otomeia e Gagliani e per poco non sfiora il pareggio. E allora stasera continueremo a parlare di sport, ma intanto restate con noi perché subito dopo questa edizione del nostro telegiornale il nostro approfondimento dedicato alla natura della cultura con Pesaro 2024. Questa sera vi racconteremo tra pochissimo della settimana in cui Acqualagna sarà capitale al quadrato, che è proprio questa, quella che si è appena aperta. E poi questa sera alle 21 trasmetteremo la partita di Urani a Milano contro Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, quindi restate con noi, potete seguirla come vi ricordiamo sempre sul canale 80. E poi domani mattina ci sarà con voi Teobaldo Bianchini alla conduzione della nostra consueta Rassegna Stampa. Buongiorno Rossini Vediamo come sarà il tempo per i prossimi giorni, grazie per essere stati con noi, buona serata.